L'ospedale di Vallo precedentemente contava una popolazione lavorativa pari a 800 di più. L'ultimo censimento fatto a gennaio, siamo rimasti 570 di più adesso. Il comitato pro ospedale San Luca di Vallo della Lucania scende nuovamente in campo ed alza la voce anche dopo l'incontro che si è svolto ieri tra il direttore generale dell'ASL di Salerno Giordano e il sindaco di Vallo della Lucania. Ringraziamo il primo cittadino Aloia, ribadiscono i promotori del comitato, come tutti gli altri politici schieratesi al nostro fianco per il raggiungimento dell'unico obiettivo di scongiurare il depotenziamento del presidio sanitario San Luca, mai terminato dal 2009 ad oggi. Ma anche all'indomani dell'incontro che si è svolto tra Giordano e il sindaco di Vallo vanno fatti ulteriori chiarimenti. Purtroppo, ribadiscono i promotori del comitato, confermiamo il nostro malcontento relativamente a quanto comunicato dal direttore generale, posticipando ancora una volta la risoluzione del problema della carenza di personale infermieristico e di operatori sociosanitari a tempi futuri indefiniti, non avendo minimamente preso in considerazione le nostre proposte di risoluzione immediata, seppur provvisoria. Per quanto riguarda le promesse di istruire bandi interregionali di mobilità per infermieri che possano garantire l'arrivo di un congro numero di operatori per il presidio San Luca, siamo molto scettici, anche perché finora, pur avendo già attivato tali mobilità per il reparto di psichiatria di Vallo, allo Stato tali provvedimenti non hanno prodotto gli esiti attesi. Non ci soffermiamo sul discorso dei medici, in quanto il sito aziendale è pieno di concorsi indirizzati alle varie discipline mediche, quindi bisogna attendere solo gli esiti di tali concorsi. Per quanto attiene ai lavori di rifacimento della facciata esterna dell'ospedale, ribadiscono i promotori del comitato, si spera che a settembre il progetto, che lunedì ancora mancava al direttore generale, sia arrivato a destinazione per dar seguito alla gara annunciata dal sindaco Aloia. In ultimo, relativamente ai lavori annunciati come nuova iniziativa riguardanti la sala operatoria di ostetrice e ginecologia, dobbiamo constatare e ricordare che tali lavori rientrano nel budget dei 750 mila euro già stanziati dal 2015, come da comunicato stampa del 30 gennaio del 2015 dall'allora direttore generale Antonio Squillante.